Bene, ascoltatemi tutti. 13 giorni fa l'agenda Ellie Langford e la sua squadra ha potenza di raggiungere un pianeta sconosciuto e lei pensa nasconda la chiave per fermare l'epidemia del mare. Allora non ci sono stati contanti. La nostra priorità è localizzare e mettere al sicuro l'agenda Langford e la sua squadra. 15 secondi al bersaglio. Usciamo dalla velocità luce. Ascoltate, agiremo alla cieca per cui restiamo vicini al vettore d'uscita. Rosen, tu controlla. Segnale guida acquisito. Uscita in... Cinque, quattro, tre, due, uno. Che diavolo? La luna. O quello che ne è? Rosen! Lo vedo! Merda! Questo posto è un rottamaio. Direi più un cimitero. Braccia della nave di Ellie? Rilevo diversi trasmettitori, ma non sono dei nostri. Secondo il registro, sono di navi delle colonie sovrane. Sul serio? Avrebbero più di 200 anni. Ehi, ricevo qualcosa. È un S.O.S. e proviene dalla nave davanti a noi. La C.M.S. e Rono. Potrebbe essere Ellie. Sì, speriamo. Rosen a 500 chilometri. Sì, signore. Le luci sono dei radiofari. Un attimo. No. Mine! Rosen, portaci via da qui! Parallel, in collisione. Prepararsi all'impatto. Non posso! Spira da sponte! Spira, muoversi! Muoversi, d'attenzione! In fretta! Isaac, Carver, qui mi serve una mano! Ecco! Prendete dei pannelli e bloccate il passaggio. Da quando dai tu gli ordini? Da quando nessuno sa che cazzo fare! Ne discutiamo duro. Carver, mi serve una tuta extraveicolare. Carver, da quella parte! Più la vita, oltre! Più la vita! Più la vita! Più la vita! Puoi la vita! Ai questa sono la vita! Puoi la vita! Chià! Anche! P Questa testicillata! E ora? Cercherò di sganciarmi da qui fuori! Ok, riesco a vedere la sala. Ci siamo. Rosen, Locke, preparatevi! Quando sgancerò i supporti, verremo sparati lontano dall'Eudora. Provate qualcosa a cui reggermi! Oh, merda! Non riesco a rallentare! Cerca di venire verso di me! Riesco quasi a raggiungerti! Mine! Mine! Isak, dove sei? Arrivo! Tieni duro! Ehi, occhio! Attenzione! Non riesco ad attirarlo! Allora attraversalo! Oh, no! Oh, no! Ce l'ho! Cerca di controllarla! Sono a piena potenza! Sta rallentando! Ok. Ok. Siamo... a posto. Da cazzo! Non rifacciamolo, per favore! Puoi raggiungere l'attacco cargo? Sì. Credi che a bordo che sia aria? Egli ha inviato il suo SOS dall'interno, per cui speriamo di sì. Non c'è energia da nessuna parte! Le porte di carico non si possono attivare! Credo ci sia un sistema manuale sull'altra porta, lo vedi? Sì. Vedrò se riesco a entrare. Sì. Vedrò lara si è Rickina. Sì. Vedrò la viaggia del stagno. bene l'aria c'è e la polvere ha qualche traccia di elly no sembra che sia io il prima mettere piede qui da parecchio tempo prova ad aprire le porte di carico aspetta non Sì, sì, sì. Sì, sì. Stiamo facendo il prima possibile. Mark è fallidissimo. L'emorragia non si ferma. Meno. Isaac, raggiungimi alla porta. Ti faccio entrare da questo lato. Ecco, ora entra e dammi una mano. Isaac, Ellie sta inviando il suo SOS dal centro della nave, ma non posso lasciare Rosane Lock. Mandami le coordinate, andrò io a vedere. Ecco, non allontanarti troppo. È un ordine. Ecco, non allontanarti troppo. Vicolo cieco, sembra che qualcuno abbia chiuso uno sbarramento di quarantena. Possiamo tagliarlo? No, è troppo spesso, ma forse è dando energia a sapere. No, è troppo spesso. Perfetto, e c'è un terminale collegato al circuito. Terminale? Con i pezzi sparsi qua attorno potrai creare un'arma migliore di questa. Ottimente. Con i pezzi sparsi. Grazie a tutti. 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 Norton, ci sei? Sì, sono qui. Questo dovrebbe bloccarli. Per ora. Bene. L'SOS proviene dall'alto. Mi sembra che io abbia trovato il generatore primario della nave. Se riesco a dare energia, dovrei riuscire ad aprirvi il passaggio. E tu che farai? C'è un ascensore che sale direttamente sull'agoglia. Ci incontriamo alle coordinate di Henry. sull'aggo. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Ehi, abbiamo energia. Il passaggio si è appena aperto. Regola. Rosen, Locke, non muovetevi. Isaac Carver, ci vediamo alla guglia. Va bene. Oddio, ci avete trovato. Oh, Ellie, piccola. Oh, Ellie, piccola. Oh, Ellie, piccola. Oh, Ellie, piccola. Lo sapevo che eri troppo dura per morire. Capisano? È lui? Ehm, sì, 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 è lui. Ehm, sì, sì, è lui. Ehm, sì, 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 è lui. Ehm, sì, sì, è lui. Isaac Clarke, piacere di conoscerti. Austin Buckle, tecnico del marchio. E questa è Jennifer Santos, la nostra piccola cervellona. Se sai decifrare la scrittura del marchio, forse c'è speranza per la missione. Isaac, ti ringrazio. Come se avessi scelto. Lo so, mi dispiace, ma ho così tanto da dirti. Eh, va bene, forza, dobbiamo andarcene subito. No, non ancora. Isaac, dobbiamo fermare il marchio. Le tracce portano all'alloggio dell'ammiraglio. Ha ricoperto le pareti con i segni del marchio. Là ci sono le risposte, lo sento. Non possiamo andarcene prima di trovarle. Beh, allora che Isaac si occupi della traduzione, noi ce ne andiamo. Io penso a Buckle, tu a Santos, forza. Forza, pensa al tuo equipaggio. Servi di più, Valparo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.